Ciao a tutti, sono Sokoru Kovan, sono studentessa del Digital Coach. Ho intrapreso questo percorso in Digital Marketing dopo essermi lavorata in Moda. Ho scelto questa scuola per il suo ricco contenuto delle materie che mi hanno garantito una formazione approfondita e con la conseguenza di una work experience è uno stage. Inoltre sono stata seguita in tutto questo percorso di mesi di studi da un Digital Career Coach, Irene, che mi ha permesso di superare le mie paure e le mie insicurezze. Questa scuola è veramente ottima, mi sta garantendo un futuro migliore, un lavoro dei miei sogni. Grazie!